e lì prendo, 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 prendo zack ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi allora oggi andrò a fare un altro video di prelievo prelievo, 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 prelievo dei pensieri allora qui ho tanti 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 pensieri che vanno prelevati e ho i miei strumenti ho ben due pinzette e delle forbici e ciò che andrò a fare sarà prendere i pensieri prenderli e tirarli fuori in questo modo per svuotare la testa da tutto e per poter avere un sonno sereno e spensierato qui ci sono diversi tipi di pensieri per tutte le aree della nostra vita e so che ho già fatto un video del genere ma volevo rifarlo dopo le tantissime tantissime richieste ci sono anche una parte di video in cui preleverò i pensieri dalla vostra testa con un po' di zack e inoltre a volte potrei non prendere i fili ma prendere dei suoni perché i mirofani ogni tanto vanno puliti quindi ogni tanto potrà succedere tipo questa cosa no? sì, quindi al posto di prendere un filo a quanto pare prendere un suono può capitare e quindi ho queste forbici per magari semplificare un po' la vita quindi prima taglio i fili rendo i pensieri un po' meno complicati e poi li tolgo pian piano adesso faremo un bel close up in modo che voi possiate ben vedere cosa faccio qui sopra e sì, io lo faccio perché me l'avete chiesto tantissimo ho pensato anche di fare questo bel mix di video spero davvero vi piace spero davvero sia effettivo per voi e vi auguro un buon rilassamento eccoci qua allora come potete vedere abbiamo diversi pensieri, diversi colori e non ti preoccupare che andremo a toglierli tutti 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 quindi cominciamo a prendere qui ho due pinzette allora cominciamo 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 vediamo vediamo qua e uno è andato prendiamo un altro ecco qua ok e ancora un altro blu e adesso provo prima a prendere quelli un po' più semplici per poi passare a quelli più complicati perché vedete ad esempio qui c'è un po' di... ci sono un po' di pensieri complicati e un po' di pensieri intrecciati che non fanno bene via guardiamo se ce ne sono degli altri un po' più semplici ok prendiamo questo qui ok e anche questo ok 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 proviamo questo ok ok e proviamo qui ok ok e poi zack qui c'è è una pulizia generale proprio allora andiamo a guardare vedete questo qui vedete questo bianco è un po' complicato non so se vedete qui è un pochino complicato questo va tagliato e poi estratto quindi andiamo a tagliare guardiamo e poi andiamo a tagliare anche qui vedete ah ecco vedete e qui andiamo a tagliare ok andiamo a tagliare proviamo a tagliare a tagliare ok e togliamo anche qui no mi servono anche altre pizzette eccoci qua qui qui mi sa che ah ecco ok ok questo era particolarmente pregoso come pensiero ok 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 questo rosso è andato adesso cerchiamo degli altri semplici un attimo guardiamo questo qui questo verde e poi questo rosa e adesso andiamo un attimo a tagliare altri due fili che sono un po' troppo un po' troppo un po' troppo lunghi poi vediamo qua ci sono un po' di fili lunghi non è ok, questo non c'entra niente qui c'è qualcosa, secondo me anche qui lo sentite? e un altro pensile è andato, guardiamo qui ora, 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 guardiamo altri pensili un po' semplici vedete? ditegli ciao vedete qui quanta roba c'è? uno, due, tre e ancora faccio questo qui verde metto un pochino ancora qui qui ok visto che abbiamo un po' pulito questa parte pulito questa parte adesso io direi che proviamo a rimuovere anche proprio i... c'è qualcosa? ah no, è un po' complicato lasciamo un attimo stare proviamo a togliere anche un po' di suoni da qui, ok? ok ok e quello guardiamo un po' qui qui c'è un pensiero parecchio complicato, vedete? è molto 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 arzigogolato e questi bisogna assolutamente toglierli con l'aiuto delle forbici proviamo ok ok allora qui c'è qualcosa da tagliare? con prelievo questo mi serve un po' qui allora questo come andiamo a procedere? andiamo prima a tirare su tutto ad allontanarlo un pochino in questo modo poi andiamo a tagliare e poi pian piano preleviamo preleviamo qui preleviamo qui preleviamo qui e anche qui vedete? vedete? ogni pensiero anche se è molto complicato prima tagliandolo dividendolo in pezzettini e poi pian piano rimuovendoli non c'è bisogno di fare tutto in un colpo non vi preoccupate non c'è bisogno di fare tutto in un colpo uno alla volta uno alla volta forbici ecco ecco e cominciamo a prelevare e cominciamo a prelevare poi qui qui bisogna tagliare un altro pochino zac 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 qui via e cominciamo a prelevare non ecco 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 ora e via ok ora poi andiamo qui e tagliamo adesso proviamo a prelevare e via guarda come vanno via tutti 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 e allora prima occupiamoci di questi bianchi molto semplici e poi ne è rimasto e poi andiamo a prelevare ok uno due bianchi questo tre aspettate qui ho trovato qualcosa eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qua andiamo a controllare che non ci sia nient'altro Andiamo prima con le forbici andiamo prima con le forbici sito facciamo eliminare anche i pensieri piccoli 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 andiamo a eliminare proprio tutti ok come pulizia finale direi che usiamo il pennello così siamo sicuri di togliere proprio tutto ok ok tutto 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 toto 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 ok come promesso adesso andiamo a togliere un pochino di pensieri anche in questo modo ok prendo 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 e zac 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 è prendo è 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 ancora prezzo è Easy e via e prendo penso proprio sia giunta l'ora di abbassare le luci e augurarvi una buonanotte 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 buona snotche, dolce sveghe buona snotche, dolce sveghe buon nuy buon nuy buon nuy buon nuy buon notte, buon 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 Grazie.